In Abruzzo, patto segreto lega Movimento 5 Stelle, un fiume in piena, lo aveva anticipato il segretario nazionale della democrazia cristiana l'indomani dell'esclusione della lista UDC-DC, idea da parte del candidato del centrodestra, Marsiglio. Il segretario nazionale della DC Gianfranco Rotondi aveva annunciato clamorose rivelazioni a Pescara e così è stato durante una conferenza stampa alla presenza degli altri esponenti della lista. Rotondi ha svelato quelli che ha definito retroscena anche riguardo i vetti sull'assessore regionale uscente Andrea Gerosolimo, la moglie Marianna Scoccia e il consigliere regionale uscente Mario Olivieri, e l'esclusione dalla competizione elettorale del 10 febbraio della lista UDC-DC e idea da parte del candidato del centrodestra, Marco Marsiglio. Questa cosa ci incuriosisce, quali sono queste dichiarazioni? Semplice, io sono stato contattato qualche mese fa da amici giornalisti vicini ai 5 Stelle e mi hanno detto guarda che ti candideranno presidente. Dico ma guarda lo reputo proprio difficile perché la mia sarebbe una candidatura debolissima, vedrai che cercheranno una candidatura debole perché i patti sono che l'Abruzzo deve andare ai 5 Stelle. Quindi quando si è manifestata questa candidatura di Marsiglio che è persona rispettabile e da noi rispettata, io già mi sono messo un po' in sospetto. Quando si sono inventati questo psicodramma dei candidati dell'UDC mi sono ricordato questa cosa, ho detto aveva ragione come sempre il giornalista ben informato, si vuol far perdere l'Abruzzo al centrodestra e noi con questa lista siamo determinanti, con il 6,6% che i sondaggi danno alla democrazia cristiana siamo determinanti per la vittoria di Marsiglio. Senta Marsiglio però ha detto votate i componenti e gli esponenti dell'UDC seri. Ho letto e ho apprezzato le dichiarazioni e ovviamente le dichiarazioni del presidente sono un inizio di calumè della pace e speriamo di poterlo fumare. Ne dico un'altra che in Piemonte ieri la Lega ha detto che corre da sola, quindi il gioco è scoperto. Mi sembra chiaro che i grillini non possono fare alleanze, ci si arrampica sugli specchi per vedere come favorirli da una parte e come prendersene il favore dall'altra.